Subito dopo la metà di gennaio ci sarà la nuova asta per la cessione del terreno di proprietà del comune di Roseto che si trova sul lungomare sud. L'ufficio tecnico dell'ente ha aggiornato in questi giorni i documenti dopo la decisione presa dall'amministrazione rosetana di inserire nel bando per la cessione attraverso la vendita all'incanto anche un altro appezzamento di circa 500 metri quadri che si vanno ad aggiungere agli oltre 5.000 metri di superficie la cui vendita non è andata a buon fine nelle precedenti tre aste. Quella che dovrà essere dunque portata a termine entro gennaio sarà la quarta asta e questa volta la sensazione è che possa andare a buon fine perché i potenziali acquirenti secondo indiscrezioni avevano chiesto indirettamente che nella procedura di vendita venisse compreso quel piccolo appezzamento di circa 500 metri quadrati fondamentale per risolvere alcune questioni legate ai confini. Un'operazione che consente al comune di Roseto di stabilire ovviamente un nuovo prezzo a base d'asta che questa volta parte da 2 milioni e 100 mila euro circa cioè circa 200 mila euro in più rispetto alla prima asta. La vendita del terreno è assolutamente necessaria per far fronte ad un buco di bilancio che ammonta poco più di un milione e 900 mila euro. Bilancio che peraltro dovrà essere approvato entro il prossimo mese di febbraio. Insomma se il procedimento seguirà l'iter programmato dal comune i soldi nelle casse dell'ente arriveranno giusto in tempo per sanare le finanze locali. Attorno a questo terreno ci sarebbe un forte interesse da parte di un gruppo di imprenditori disposti ad investire parecchi soldi, un investimento complessivo da circa 10 milioni di euro.